Asso in collaborazione con Antipartners organizza sempre ogni anno un importante screening gratuito a vantaggio dei cittadini sul fronte oncologico ma in ambito dermatologico. Anche quest'anno avete voluto ripetere questa iniziativa? Sì, anche quest'anno con grande successo abbiamo ripetuto questa iniziativa che è giunta alla sua terza edizione e che quest'anno abbiamo registrato un record rispetto alle precedenti edizioni. Siamo infatti arrivati a raggiungere i 196 pazienti visitati rispetto alle precedenti due edizioni in cui eravamo stati un po' più bassi, quindi è un ottimo risultato. Ecco, Asso non fa solo questo, fa tante altre cose. Come conoscervi e come sostenervi? Allora, sì, le iniziative di Asso sono diverse, diciamo principalmente legate al conferimento di premi a studenti, a neolaureati meritevoli che si sono distinti per studi sempre in campo oncologico. Abbiamo poi, allargiamo anche i finanziamenti per progetti di ricerca e insomma sono numerose le iniziative che vengono portate avanti dall'associazione e speriamo insomma che diventino sempre di più, che crescano negli anni e questo però potrà avvenire solo appunto col contributo delle persone che decideranno di darci e di concederci la loro fiducia come hanno fatto adesso e speriamo che siano insomma sempre di più.